Amici del software libero open source, benvenuti in questa 93esima puntata del podcast di Marcos Box. Si ricomincia. Ebbene, rieccoci qui. Come ben saprete c'è stata una piccola pausa dovuta al covid. Purtroppo mi sono beccato il covid, quindi sono stato un mese e qualche cosa bloccato. Non ho fatto praticamente niente, ho tralasciato anche il blog, perché è una brutta cosa, lo sapete bene. Ma comunque, l'avrete ascoltato di sicuro nella puntata dedicata al covid che ho pubblicato qualche tempo fa sul podcast, su questo podcast. O l'avrete letto di sicuro sul blog, o per i più affezionati l'avrete letto nel canale Telegram. Ricordo a tutti che ho anche un canale Telegram, non solo quello dedicato alle notizie, quindi dove vengono postate tutte le notizie, ma c'è anche un canale dedicato alla community, quindi dove potete interagire. E da qualche giorno, da 4-5 giorni, ho anche un canale dedicato alle offerte Telegram e ho il codice sconto Marcosbox, che potete utilizzare per acquistare su Amazon e supportarmi. Quindi, momento spottone inserito nell'intro, vabbè. Cominciamo, cominciamo con le notizie. Allora, iniziamo con le notizie, iniziamo facendo un mega assunto di quello che ci siamo persi in queste settimane. Ovviamente non parlerò di tutti gli argomenti, perché altrimenti questa puntata sarebbe lunga decine e decine di ore, ma riassumiamo, diciamo così, le ultime notizie, cercando anche di ficcare a forza con argomenti simili. Bene, parlando di argomenti simili, c'è stato il rilascio della versione in beta di Fedora Linux 34, che ha introdotto, la prima distribuzione che è introduta, di fatto, la prima distribuzione con rilasci semestrali, sarà la prima distribuzione che ha introdotto Gnome 40, con tutte quante le novità che porta questa nuova versione, con un maggior supporto a Wayland, con un nuovo layout, con una dock che viene spostata dalla parte di sistema, viene spostata in basso, quindi gli spazi di lavoro vengono tutti quanti disposti orizzontalmente, hanno fatto tante di quelle piccole modifiche e che, diciamo sì, l'hanno svecchiato un po', l'hanno modernizzato un po', e io comunque ho dei bug, ve lo dico fin da subito, ho praticamente qualche settimana fa, proprio in concomitanza con il rilascio della beta di Fedora 34, l'ho installata e ho iniziato a inveire nei confronti di Gnome, molto probabilmente questo bug di cui sono afflitto dipende da Mutter, e praticamente che cosa mi succede? Succede che con Gnome 40 andando a installare i driver proprietari Nvidia, il desktop vi va sul giallino. All'inizio ho inveito nei confronti di Fedora pensando che fosse un problema di Fedora, perché come ben saprete Fedora è un po' nazista nei confronti dei driver proprietari Nvidia, poi mi sono messo a installare altre distribuzioni, ho installato Endeavor OS e l'ho testato con la versione beta dei pacchetti, diciamo così, la versione di sviluppo, quella ancora stabile, di Gnome 40 che era presente su Arch Linux e anche lì ho visto il problema. Allora poi in maniera, diciamo così, a oltranza ho provato altre distribuzioni per poter provare il Gnome 40, e mi sono dovuto arrendere la dura realtà perché l'altro giorno ho installato la versione 21 di Manjaro che fra parentesi è stata rilasciata lo scorso 23 marzo, nell'edizione con Gnome, il ragionamento al Gnome 40 è arrivato e anche lì mi sono dovuto scontrare con questo bug che mi devo rassegnare per adesso, fin quando non verrà fixato. Sto avendo anche difficoltà a cercare riferimenti per poter capire se il bug è stato già segnalato o quant'altro, e che dire, fino a quando non verrà rilasciata anche su Ubuntu, quindi si avrà un bacino di utenza maggiore, molto probabilmente questo bug non verrà a gara su parecchi utenti e non verrà segnalato un Cesar Aiko, perché non penso che sono l'unico che ha questo piccolo problemino con Gnome. Oddio, può anche essere visto che i bug lo sapete, mi perseguitano. Bene, e tornando sempre a Gnome 40, Gnome 40 è stato rilasciato in forma stabile il 24 di marzo 2021, e non la vedremo su Ubuntu, non la vedremo su Ubuntu, perché non la vedremo su Ubuntu? Perché il team di Canonical ha deciso di rimanere, per quanto riguarda la versione 21.04 di Ubuntu, quella che è in uscita a fine aprile, il prossimo 22 aprile, ha deciso di rimanere sulla versione precedente di Gnome, quindi Gnome 3.38.x, però ha deciso di fare il suo solito mischione, il solito mix che fa Canonical, che in passato era molto frequente, cioè quando c'è il rilascio di una nuova versione, che fanno, aggiornano, che ne so, parte del parco software alla versione nuova di Gnome, quasi mai aggiornano il file manager, aggiornano, diciamo, i pacchetti quelli un po' più inutili, e hanno fatto la stessa cosa anche su Ubuntu 21.04. Se provate la beta di Ubuntu 21.04, beta di Ubuntu 21.04, che è stata rilasciata lo scorso 2 aprile, e vi accorgerete che, appunto, c'è questa presenza mista di pacchetti vari da Gnome 40, come il monito di sistemi, più fani e altre applicazioni di qua e là, con la scelga precedente. Scelta, in questo caso, sensata, e anche saggia, visto che è considerato che Gnome 40 è di fresco rilascio, quindi ci saranno tutti questi bug, come quelli di cui soffro io, e altri cos'uccio di qua e là, quindi meglio che si prendano il loro tempo per analizzare tutto, aspettare il rilascio delle point regresi di Gnome e, appunto, farlo maturare. Passiamo adesso alle notizie riguardanti i rilasci delle distribuzioni, quelle, diciamo, non tanto famose. Adesso mi picchierà qualcuno, perché so che molti di voi lettori amano questa distribuzione, è stata rilasciata la versione 20.2 di D-Pin Linux. Devo dire che questa nuova versione, anche addetta degli utenti storici di D-Pin Linux, sta avendo tanti problemi e sembra che, diciamo così, sia diventata D-Pin sia diventata la beta di UOS, che sarebbe la distribuzione commerciale, la versione commerciale di D-Pin che viene fornita nel mercato asiatico. Ci sono svariati bank che sono stati introdotti con questa nuova versione e parecchi utenti si stanno lamentando. Comunque, le novità di questa nuova versione di D-Pin 20.2 sono principalmente miglioramenti delle prestazioni, perché praticamente sono, viene fatto un avvio più rapido dei componenti di sistema, delle applicazioni che compongono i desktop e environment. c'è stata detta agli esegruppatori di D-Pin anche una ottimizzazione del codice, quindi prestazioni migliorate anche sotto questo punto di vista. Ci sono stati dei miglioramenti nei file manager, è stata introdotta l'utilità di disco, è stata aggiunta delle nuove funzionalità al client mail, come per esempio il fatto di poter inviare una mail ad un orario specifico, cosa che io utilizzo, funzionalità utilizzo in maniera a suidua su Gmail e su Outlook, sapete quanto è comoda, apri e chiudo a parentesi, fatelo, fatelo un po', soprattutto se lavorate è una cosa che vi salva il sederino tantissime volte, se lavorate non utilizzate un client di posta elettronica ma gestite tutto quanto dall'interfaccia web del vostro servizio di posta elettronica che sia Gmail o le mail di Outlook, quindi tutte le mail di Microsoft l'avvio ritardato è la cosa migliore perché voi scrivete magari dovete rispondere a qualcuno, dovete aggregare qualche file, programmate l'invio dopo un'oretta, un'oretta e mezza e capiterà quasi sicuramente che dovete andare a rimettere mani a quella mail prima di inviare perché avete saltato qualche cosa, avete sbagliato e quant'altro. Aperto e chiuso a parentesi. Questa quindi, questa funzionalità adesso è stata introdotta anche nel client mail di D-Pin. E' stato poi aggiunto dal Goder che è un tool di un programma di D-Manjaro che serve di D-Manjaro scusate di D-Pin che serve a gestire il download dei file e supporta più protocolli quindi HTTPS, FTP, Link Magnet e qualsiasi altra cosa insomma che vi sia utile per poter scaricare file e l'ultima novità di D-Pin Linux che in realtà dovevo citare all'inizio ma me ne sono dimenticato riguarda l'aggiornamento al kernel Linux che è adesso il 5.10 e poi c'è anche la versione 5.11 che è possibile installare a parte. Questa nuova versione infine è basata su D-Manjaro 10.8 come vi dicevo prima comunque moltissimi utenti si stanno lamentando di questa pointer release di D-Pin perché sembra che sia diventata sia diventata sia abbia portato parecchi bug in queste settimane ho provato anche D-Pin perché era da tantissimo tempo che non lo installavo su un computer fisso di solito lo provavano sempre su una macchina virtuale questi giorni ho deciso di fare un test sul mio computer principale non lo so ho trovato proprio di una pesantezza non lo so continua a non convincermi per quanto l'effetto wow appena si avvia dicevo ma che bello poi non lo so lo trovo pesante graficamente e anche pesante dal punto di vista delle applicazioni e dire che eseguo di solito distribuzioni Linux sul computer è un computer abbastanza prestante perché è un Ryzen 3600 con 16 giga di ram l'unico colgo di bottiglie di questo computer è rappresentato dal fatto che non me ne vogliate Windows l'ho installato sull'SSD M2 mentre le distribuzioni Linux le installo in una partizione su hard disk meccanico e quindi posso vedere anche la differenza di prestazioni tra i vari desktop e environment me ne lo posso notare maggiormente comunque parli di distribuzioni che ho provato poi in queste in queste settimane in questi questi giorni che ci hanno separato e c'è stata anche JingOS di cui ci ho fatto un piccolo video anteprima e che cosa è JingOS? JingOS è il primo sistema operativo al mondo per tablet basato su Linux praticamente c'è questa società cinese che ha deciso di rilasciare una distribuzione basata su Ubuntu 20.04 che fa utilizzo in questa prima release di KDE Plasma Mobile e che ha un look and feel che si ispira ai sistemi operativi mobile in particolar modo ad iPadOS questa distribuzione orientale è pensata per l'utilizzo su tablet ma su dispositivi dotati di touchscreen in generale che dire è interessante come progetto ovviamente per poterlo apprezzare al pieno c'è bisogno di installarlo su un dispositivo dotato di touchscreen e la cosa interessante di questo progetto è che questa società che sta sponsorizzando JingOS l'internet oltre a mirare a realizzare un desktop and vacuum and complito che arriverà entro la fine del 2021 quindi sostituiranno KDE quest'anteprima che vi ho postato praticamente è inutile perché a fine anno cambieranno cambieranno tutto e dicevo che la cosa interessante di questa distribuzione Linux di questo progetto è che la società che la sta sviluppando ha lanciato anche una campagna di crowdfunding per realizzare Jingband A1 che sarà il primo tablet Linux ad arrivare nel mercato consumer ed è vero interessante perché le specifiche sono anche specifiche interessanti non sono i soliti dispositivi ARM oppure non so se vi ricordate i vecchi progetti che erano stati lanciati da KDE quindi tablet che erano di fatto brutti tablet perché non erano non erano tanto prestanti diciamo così passiamo adesso a notizie un po' più ma un po' più 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 pesanti diciamo così in queste settimane c'è stato un problema dovuto all'annuncio da parte di Richard Starman del suo ritorno nel consiglio dell'amministrazione della Free Software Foundation che è successo? è successo che questo annuncio da parte di Richard Starman è stato fatto durante l'evento virtuale Vibra Planet e ovviamente la gente non l'ha presa non l'ha presa bene come molti di voi ricorderanno Richard Starman si era dimesso dalla presidenza della Free Software Foundation ma anche dal consiglio di amministrazione nello scorso 16 settembre del 2019 a seguito delle pressioni operate dagli MIT da fonti esterne per via di alcune sue dichiarazioni rese nel corso degli anni dichiarazioni poi portate alla ribalta a seguito delle dichiarazioni di Starman sul caso Epstein o meglio non direttamente sul caso di un professore dell'MIT che poi era anche scomparso quindi era anche morto che non sono queste dichiarazioni non sono state prese per quello che erano perché allora faccio un discorso so che molti di voi mi odieranno per questa cosa e mi diranno che sono una brutta persona però Richard Starman è sempre stato un tipo un po' particolare nelle sue dichiarazioni ha sempre fatto discorsi di principio discorsi assolutistici e ha detto spesso ha rilasciato alcune dichiarazioni alcune opinioni forti che agli occhi di molti potevano sembrare poco consone poco consone anche in virtù del fatto che lui è un personaggio che rappresenta un movimento rappresenta il movimento del software libero lui è il software libero il software libero è nato proprio per il fatto che Richard Starman è caparbio è fissato si fissa sembra quasi un doggy shot che combatte contro i murini a venti si fissa nella sua testa si è fissato anni fa con alcuni si è fissato anni fa con la libertà le libertà che dovevano esserci nel mondo dell'informatica quando nessuno pensava ad argomenti di questo tipo e grazie a questa sua caparpietà ha fondato il movimento del software libero da cui poi è derivato quello del open source e tutti noi ne abbiamo beneficiato quindi Richard Starman è sempre stato un personaggio scomodo che ha sempre fatto delle dichiarazioni dichiarazioni che secondo me però vanno sempre contestualizzate perché non penso che tante di quelle dichiarazioni che sono state fatte tante accuse di quelle che sono state fatte nei confronti di Richard Starman vadano vanno presa così duramente così alla lettera come come sono state prese il fatto dei pronomi dei generi neutri e quant'altro datevi comunque a leggere sul macrosbox trovate maggiori informazioni trovate diversi link che vi gustano la vicenda vi ricordano quello che è successo con la vicenda di Epsyn e vi rialmentano e vi fanno anche capire quel che è stato detto da Starman così potete farvi un'idea se capire se secondo voi C.O. ci fa vabbè comunque tornando alla vicenda Richard Starman ha annunciato il suo ritorno all'interno della Free Software Foundation e aprite il cielo aprite il cielo perché è successo un poverone mediatico e c'è stata una raccolta firme di diversi personaggi non legati alla Free Software Foundation ma esterni a movimenti che non fanno parte della Free Software Foundation Big del mondo Linux Document Foundation Red Hat Fedora si sono scagliati tutti contro il polio di Richard Starman e se la stanno prendendo e hanno la cosa che non mi piace che non mi è piaciuta è che praticamente Red Hat e Fedora hanno deciso di tagliare i supporti finanziari alla Free Software Foundation ma anche il supporto in termini di risorse risorse uomo per quanto riguarda lo sviluppo di progetti e hanno deciso di boicottare praticamente tutti quanti gli eventi in cui Richard Starman è relatore o espositore di fatto stanno facendo un comportamento tipo un embargo diciamo così perché se utilizzo l'atto termine poi vengo contestato come sono stato contestato sul blog è praticamente un embargo che stanno facendo nei confronti della Free Software Foundation per colpa di Richard Starman vediamo nelle prossime settimane come si evolverà la vicenda se Richard Starman sarà costretto a fare nuovamente un passo indietro se sarà cacciato non lo so io spero di no io faccio onestamente il tifo per Richard Starman perché lui è un simbolo a sto punto spero si trovi magari un accordo per lasciarlo come un presidente onorario della Free Software Foundation senza libertà di 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 vito di decisione all'interno del consiglio di amministrazione vedremo poi come si evolverà il tutto nelle prossime settimane passiamo adesso ad un argomento riguardante riguardante Linux Mint perché torniamo a parlare di Linux Mint ci eravamo lasciati qualche tempo fa con un problema che affliggeva Linux Mint praticamente molti utenti tralasciavano l'installazione degli aggiornamenti questo era stato scoperto analizzando le statistiche del pacchetto di Firefox ed altri pacchetti e il team di Linux Mint adesso è corso ai ripari e ha deciso di implementare una funzionalità all'interno del gestore degli aggiornamenti di Linux Mint che servirà a ricordare agli utenti mediante un'apposita notifica che ci sono degli aggiornamenti di sistema da installare sapete bene che il team di Linux Mint è sempre molto attento ad andare incontro agli utenti quindi fare una botta a cerchio una botta una botta a cerchio vabbè insomma un amico di darkness in questo momento comunque cerca di venire incontro a tutti e ha cercato in questo caso di riuscire a trovare un equilibrio tra fare avviso avvisare gli utenti di aggiornare il sistema e dare la possibilità anche a quegli utenti più avanzati che vogliono magari tralasciare determinati aggiornamenti di non fare questi aggiornamenti di poter nascondere questa notifica ebbene queste nuove modifiche che sono state introdotte all'interno del gestore degli aggiornamenti consiglieranno di mostrare una notifica notifica che può essere ignorata e se decidiamo di ignorare la modifica questa notifica scusate verrà riproposta dopo due giorni oppure verrà proposta quando gli aggiornamenti non vengono fatti per molto tempo quindi hanno programmato un sistema di notifiche per gli aggiornamenti molto personalizzabile verrà introdotta anche una schermata apposita all'interno delle impostazioni di sistema dove sarà possibile decidere come queste notifiche con quale cadenza temporale queste notifiche verranno proposte e si spera che questa modifica introdotta al gestore degli aggiornamenti possa risolvere il problema della pigrizza di alcuni utenti che non aggiornano il proprio sistema con regolarità perché sapete bene che se state su un sistema non è che l'aggiornamento vi viene proposto per avvergli le scatole l'aggiornamento viene proposto perché magari va a correggere un problema o ha migliorato in un software specie su distribuzioni come Linux Mint che sono basate su versioni LTS di Ubuntu quindi sono volta alla stabilità e non sono aggiornamenti che ti vanno a sminchiare tutto il sistema o meglio si spera perché di solito è così passiamo adesso a un'altra notizia interessante notizia che riguarda KDE KDE Plasma 5.22 la prossima versione di KDE Plasma vedrà l'introduzione di una nuova pagina impostazioni rapide io ho scherzosamente aggiunto perché le schermate di impostazioni erano davvero poche perché di fatto è così sapete bene su KDE Plasma ci sono una miriade di settaggi di impostazioni che possono essere gestite all'interno delle impostazioni di sistema è praticamente l'opposto di di GNOME GNOME ha pochi settaggi pochi ma buoni sì non ti permette di personalizzare tutti gli aspetti del sistema come KDE Plasma Plasma lo potete letteralmente plasmare a vostra immagine di somiglianza che dire è una notifica praticamente che hanno aggiunto hanno aggiunto una pagina nuova nell'impostazione di sistema chiamata impostazioni rapide che ci mostrerà alcune delle impostazioni più comunemente utilizzate e include poi un collegamento alle impostazioni per cambiare lo sfondo o il tema e avevamo bisogno di secondo voi di una nuova impostazione su KDE non lo so per me no però a detta degli sviluppatori può essere una cosa utile soprattutto per gli utenti quelli nuovi che magari non sanno dove sbattere a mano a questo punto però io faccio sempre lo stesso pensiero si poteva benissimamente andare a semplificare un po' le impostazioni di sistema però a quanto pare in KDE preferiscono buttarci 50.000 cose che tanto tanto male non fa restando sempre in tema KDE c'è stato un annuncio un po' particolare che fa presagire cose strane secondo me significa che ci vorrà molto tempo affinché venga aggiornato KDE alle QT6 perché sapete bene che il supporto per il QT 5 sta svolgendo a termine a seguito del rilascio delle QT6 che è avvenuto lo scorso dicembre al fine di garantire la massima stabilità possibile gli sviluppatori di KDE hanno deciso di mantenere una loro serie di patch di correzioni di sicurezza di correzioni di funzionalità di sistema per quanto riguarda le QT 5.15 e di mantenere questo set di patch fino a quando KDE non avrà completato la migrazione alle QT6 ovvero fino a quando non verrà giudicato il tutto stabile questo mi lascia presagire il fatto che in KDE ci vorrà del tempo per effettuare la migrazione alle QT6 e molto probabilmente questa decisione di mantenere questo set di patch contribuia anche a rallentare un po' lo sviluppo a rallentare un po' la migrazione alle QT6 perché secondo me vorranno tenere a lungo questo set di patch fino a quando le QT6 non saranno abbastanza stabili tutte quante le applicazioni KDE plasma non saranno abbastanza stabili speriamo soltanto che questo non si ripercuota appunto su KDE tutto e quindi ci vogliono diverso tempo per migrazione alle QT6 speriamo che sia una cosa transitora però secondo me significa che ci vorrà del tempo per il passaggio alle QT6 per quanto riguarda KDE plasma restando infine in ambito KDE c'è stata una notizia riguardante KDE che forse potrà interessarvi come ben saprete il team di KDE neon rilasciava diverse edizioni della propria distribuzione più di tre anni fa il team di KDE neon introdusse per la prima volta l'edizione plasma RTS una edizione di KDE neon basata su RAM RTS di plasma di KDE plasma questa edizione non ha mai fatto tanto braccio nel cuore degli utenti interessanti soprattutto ad avere una versione branding edge di KDE plasma e che è successo? è successo che vi si è considerato che è un'edizione che non veniva utilizzata e di fatto era l'edizione meno utilizzata tra tutte quante le edizioni le edizioni di KDE neon e vi si è considerato che comunque mantenere una edizione di KDE neon significa sprecare delle risorse che possono essere utilizzate per migliorare il supporto alle altre edizioni ma anche a dei costi di manutenzione il team di KDE neon per questo motivo ha deciso che il primo luglio del 2021 terminerà il supporto per KDE neon plasma lts ha anche suggerito a tutti quanti gli utenti che vogliono assolutamente utilizzare una versione lts di plasma di migrare a soluzioni lts come kubuntu lts o opensource leap quindi se volete continuare a utilizzare una versione lts dovete cambiare distribuzione o se volete continuare a utilizzare KDE neon vi toccherà passare al ramo principale di KDE neon quella che tutti quando scaricano normalmente al fine di aiutare diciamo così di facilitare il passaggio di facilitare il passaggio a questa edizione alla user edition gli sviluppatori di KDE neon hanno anche creato una guida che è disponibile sul wiki di KDE neon che trovate il link su marcosbox che vi spiega come effettuare la migrazione infine l'ultima notizia di questa settimana la voglio dedicare a commentare una notizia grave molto grave qualche giorno fa c'è stato fatto scalporo una notizia riguardante il mega furto di dati avvenuto ai danni di facebook e di conseguenza di tutti quanti noi ignari utenti su un forum specializzato in hacking è stato pubblicato un enorme dataset contenente i numeri di telefono e i dati personali di oltre 533 milioni di utenti facebook provenienti da ben 106 paesi anche in Italia è fra i paesi coinvolti e sono stati trafugati 37 milioni di dati di cittadini italiani oltre al numero di telefono troviamo l'id facebook il nome e il cognome della persona l'indirizzo di casa luogo e data di nascita genere situazioni sentimentale posto di lavoro in alcuni casi anche l'indirizzo email ma troviamo questi dati sono stati trafugati anzi è sicuro questi dati sono stati trafugati già da diverso tempo quindi erano già in mano ai malintenzionati la cosa brutta è che adesso questi dati sono stati pubblicati su questo sito e tutti quanti possono scaricare i file sono stati passati sono stati utilizzati dalla qualunque e adesso sono di pubblico dominio su web quindi non sono più dati nostri ci dobbiamo abituare al fatto che il nostro numero di telefono adesso è pubblico è possibile utilizzarlo è possibile che i malintenzionati possono utilizzarlo per attacchi di phishing ma è possibile anche come ha ricordato Matteo Flora che varie aziende adesso possono avere accesso al nostro numero di telefono al database di questi numeri di telefono per operazioni di telemarketing e quant'altro ormai la frittata è fatta c'è però in questa brutta notizia una buona notizia riguarda il fatto che è possibile verificare sul sito I've been powered come carico si pronuncia quel sito ho mai capito trovate i link su marcosbox andando su questo sito inserendo il vostro numero di telefono con il più 39 da mani quindi con il profisso internazionale è possibile vedere se si è coinvolti in questo leak di dati perché vi consiglio di andare a vedere perché come è successo per molte persone me compreso io non ho mai dato il mio numero di telefono a facebook però me lo sono ritrovato in questo database in questo leak e molto probabilmente perché sapete bene che c'è quella funzionalità di di messenger media nella quale si può quando si avvia la prima volta ci chiede di condividere la rubrica dei contatti e molto probabilmente sarà finito grazie a qualche persona che ha condiviso il mio contatto e quindi è finito nelle grinfie di di facebook questo ci deve ci deve ci deve ricordare che il web è un posto pericoloso che dobbiamo fare sempre attenzione ai dati che forniamo ai dati che diffondiamo e che anche giganti come facebook possono essere facilmente bucati possono avere delle falle che possono essere sfruttate per per trafugare i nostri dati personali bene con questa ultima notizia si conclude qui questa puntata del ritorno questa 93esima puntata del podcast di marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana sperando di tornare a essere più più costante nella pubblicazione delle puntate ma si sarà più costante tornerò con la cadenza settimanale o quasi abbiate fide ciao ciao